L'Europa è i suoi territori, è i suoi cittadini, quindi ritrovare un'Europa vicina ai cittadini, vicina alle comunità locali, vuol dire ritrovare un'Europa che sa articolarsi e declinarsi nei territori. E questo parte dalla capacità di fare sistema, di riuscire a mettere a frutto i fondi anche europei a disposizione e soprattutto di valorizzare le opere che sono state raggiunte con questi fondi e di migliorare l'efficacia della spesa per priorità. E questo è un po' che è la sfida del futuro, è la sfida che come Commissione europea ma anche appunto in partnership con i comuni e le regioni italiane dobbiamo affrontare.